Non siamo più commissariati e il piano sanitario deve passare in consiglio regionale, al contrario il consiglio regionale ha avuto modo di leggere dai giornali senza ancora che venisse presentato alle commissioni il piano sanitario. In secondo luogo i piani sanitari sono tre, perché ne presentano uno territoriale, uno ospedaliero e un vero e proprio piano sanitario che dovrebbe contenerli e che al contrario sostanzialmente cadono in contraddizioni. In quelle contraddizioni non si evincono gli impegni e le promesse nella campagna elettorale. Non ci sono i di più rispetto alla rete ospedaliera che avevano promesso, sbandierato, con Salvini che faceva di piazza in piazza e frequentava le nostre città e al contrario si riparte dal piano precedente. Quindi nessun di più rispetto alle strumentalizzazioni e alle promesse del passato. Tra l'altro c'è un immobilismo tale per la paura di scegliere e di dire la verità agli elettori, ovvero che appunto li si è ingannati, che si bloccano le assunzioni e i 400 milioni di euro che noi abbiamo messo a disposizione e che sono trasferiti alla regione per costruire i nuovi ospedali, lo ricordo, in una regione fortemente sismica. Quindi è molto grave che le contraddizioni che emergono da delle tre reti, dai tre piani presentati, rendono questa regione così ferma da non poter oggi questa regione investire né con soldi in cassa sui nuovi ospedali né con soldi stanziati dalla vecchia giunta per le nuove assunzioni. E' molto grave che non ci siano appunto le scelte che pure si erano sbandierate e promesse.